Nella serata che chiude l'anno di Connetto, una partecipazione speciale è data dai musici di Santa Pelagia. Abbiamo qui il direttore artistico Maurizio Fornero. Che tipo di attività svolgete? Noi lavoriamo soprattutto sulla ricerca filologica e sulla riproduzione in tempi moderni di manoscritti e musica del periodo antico e barocco. Quindi una ricostruzione filologica di tutto ciò che è il mondo nostro, antico e barocco fino al classicismo musicale. E qual è il ruolo di Connetto nel creare una relazione, un legame tra tutte le associazioni culturali come la sua in questo progetto di unione musicale che si sta svolgendo? Sì, il ruolo di Connetto è fondamentale perché di fatto ha cambiato la visione a me come direttore artistico e soprattutto agli enti che gravitano, le associazioni e le fondazioni che gravitano su Connetto perché si è partiti dal punto base che è quello essenziale, che è quello che ci porterà a uno sviluppo sicuro e certo nel futuro che è quella della condivisione, della connessione di intenti e di volontà nel poter andare avanti in questo periodo di grave crisi economica che ovviamente è riflessa nel mondo culturale e ha ovviamente a grande raggio, grandi termini. Noi ci occupiamo di attività di consulenza e assistenza alle aziende che si occupano del settore dell'ecologia e dell'ambiente e noi svolgiamo tutte le attività con i principali player nazionali per gli avvi dei servizi e partecipazione alle gare pubbliche per la raccolta dei rifiuti e quindi la progettazione e tutto quello che riguarda il mondo della raccolta rifiuti e della gestione dei servizi di igiene ambientale. Nel nostro settore è sempre più importante l'innovazione tecnologica. Noi con la nostra società svolgiamo servizi che sempre di più hanno nel loro core business la parte di innovazione tecnologica e abbiamo trovato in connetto un partner per sviluppare sempre di più questo aspetto della nostra consulenza.